Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte numero 38 del 18 settembre i bandi per le nomine di inizio legislatura. L'elenco delle nomine, le scadenze, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature sono presenti anche sul sito del Consiglio regionale www.cr.piemonte.it nella sezione dedicata alla Commissione Nomine.